Buonasera a tutti, seduta mista per le principali piazze finanziarie europee, DAX che chiude a meno 0,28%, IBEX più 0,22%, CAC a meno 0,34%, FUZI Londra che chiude a più 0,36% e FUZI che chiude a più 0,02%, il sentiment del mercato è rimasto teso a causa dei persistenti dimori sul rallentamento economico e sulle relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina e in più oggi attenzione anche sul focus sulla politica italiana con il segretario del PD Nicola Zingaretti che al termine dell'incontro con Sergio Mattarella al Quirinare ha dichiarato di aver espresso al Presidente della Repubblica il nostro sostegno al tentativo di dare vita ad un nuovo governo con una maggioranza politica. Abbiamo riferito di aver accettato la proposta del Movimento 5 Stelle di indicare in quanto partito di maggioranza relativa in nome del Presidente del Consiglio. A questo punto si attengono le valutazioni dei grillini e le conclusioni dell'inquilino del Colle. Novità anche sul fronte della Brexit, la regina del Regno Unito Elisabetta II ha accolto la sospensione del Parlamento Britannico richiesta dal Premier Boris Johnson fino al 14 ottobre. La domanda del Premier inglese è stata considerata una mossa insolita che rende più difficile per i legislatori bloccare un eventuale Brexit senza accordo. Bene, oggi invece non ci sono stati dati interessanti in programma durante il corso della giornata, quindi partiamo direttamente da analizzare il calendario macroeconomico di domani. Alle 9.55 abbiamo la variazione della disoccupazione della Germania nel mese di agosto, poi nello stesso orario il tasso di disoccupazione sempre della Germania, poi alle 14.30 appuntamento importante sul PIL del secondo trimestre, un importante indicatore macroeconomico dove, seguito quindi dai vari investitori per poter identificare, meglio per poter capire se il mercato, praticamente se il mercato, anche se c'è una fase di recessione che colpisce gli Stati Uniti. Poi alle 14.30 abbiamo le richieste iniziali di sussidio alla disoccupazione e all'euro e 16 i contratti pendenti di vendita di abitazioni relative al mese di luglio. Bene, ora passiamo all'analisi dell'euro dollaro, passiamo prima all'euro dollaro, bene, quindi abbiamo praticamente per quanto riguarda la situazione dell'euro dollaro al momento resta ancora sotto 1.11, vedete quindi praticamente abbiamo un breakout anche se per pochissimi punti, però la VU potrebbe continuare anche nelle prossime sessioni, nelle prossime giornate ad andare sell fino a raggiungere il minimo, poter doppiare quindi il minimo registrato esattamente il primo agosto e quindi potrebbe andare a formare anche un doppio minimo. Per quanto riguarda invece il cable, che praticamente oggi ha avuto un forte movimento ribassista dovuto appunto se ci mettiamo sull'orario, eccolo qua, vedete il movimento ribassista con la notizia del blocco del Parlamento da parte di Boris Johnson, che poi vedete è stato confermato anche dalla regina Elisabetta, quindi la situazione al momento. Restiamo un attimo in stand by, anche se in ottica giornaliera c'è una falsa rottura al ribasso di 1.22 con il prezzo che in caso di rottura sopra al PV mensile in 1.2325 potrebbe raggiungere 1.2460. 0.764. Mentre invece per quanto riguarda le altre operazioni andiamo a vedere AU2SD, altre situazioni interessanti. Allora per quanto riguarda AU2SD rimaniamo se la mercato è rotto il triangolo, il prezzo che si è portato sopra al di sotto è 0.67.518, quindi la view al momento rimane ribassista. Per quanto riguarda USDCAD, bene USDCAD aspettiamo in questo momento diciamo possiamo abbiamo un'operazione sell, anche se adesso stiamo a recupero, stiamo a meno 55 punti, il prezzo è andato a formare una zona, un punto di swing secondario, si è riportato sotto al PV settimanale, da questa zona potrebbe partire un'altra movimentazione al ribasso il che potremmo andare a inserire in serata un'altra operazione di vendita. Per quanto riguarda invece la situazione legata a New Zealand Dollar, restiamo sell a mercato, in questo momento il prezzo si è portato sotto al livello 0.63.46 con il secondo target posizionato esattamente a 0.62.40. Bene, mentre invece per quanto riguarda la situazione legata a sterlina yen, andiamo a vedere anche sterlina yen, se c'è qualche setup di ingresso a mercati interessanti, in questo momento vedete stiamo all'interno di una fase più che altre, una fase triangolare, eccola qui, in ottima H4 il prezzo si sta spostando sopra al PV settimanale, alla rottura di questa trendline potrebbe partire una movimentazione al rialzo data anche da questa prima fase, vedete però molto probabilmente andrò a 2 dove sono i setup di ingresso a mercato, allora possiamo avere, questo è il punto di swing quindi che va a dividere un po', vedete va a dividere le posizioni, i movimenti, il movimento sell dalla possibile partenza in movimento long, qua siamo in una zona di compressione e il prezzo potrebbe andare a riprendere un'altra volta questo 50.68 a fare una correzione per poi ripartire su, oppure in caso di rottura del lato superiore di questa flag o cuneo più che altro di compressione potrebbe partire il long bene, mentre invece per quanto riguarda sterlina dollaro australiano avevamo individuato stamattina durante la diretta live per un ulteriore movimento ecco in questo momento sterlina dollaro australiano si è appoggiato su questo 1.81053 una zona un po' particolare, siamo in una fase, vedete di quasi di, abbiamo una bearish white swan da qua potrebbe partire un movimento a ribasso, però vedete abbiamo diverse candele di una sopra l'altra quindi sovrapposte, quindi aspetto ulteriori indicazioni da parte del mercato selena dollaro della nuova zelanda invece qui abbiamo una situazione ribassista potrebbe partire un setup ribassista, quindi andate a prendersi, vedete il 61.8 tracciato dall'ultimo massimo all'ultimo minimo, siamo in zona 68, punto di swing in H4 è questo, al di sotto 1.92.962 potrebbe partire un sel andiamo su H1, eccolo qua, quindi vado anche a tracciare per anche Fibonacci, vedete 61.8 quindi qui abbiamo già gli estremi per un setup di ingresso al mercato sel aspettiamo un breakout sotto al pivot giornalino oppure in serata al di sotto se va a rompere 1.92.962 per quanto riguarda invece la situazione legata all'oro, oro alti e bassi anche se restiamo, il resto ancora al mercato, in questo momento siamo a 77 punti vedete, movimento molto nervoso con il target posizionato a 1.549.20 su questa zona, quindi molto nervoso, però diciamo a momento sembra che vuole continuare ad andare long, anche perché come valuta rifugio US crude, US crude, situazione quindi su US crude movimento abbastanza, movimento rialzista adesso si è formato questa bearish a shark con un punto di swing, H1, quindi da questa zona io mi aspetto sinceramente, mi aspetto andiamo a vedere un attimo la situazione sul giornalino, si, vedete continuo ancora la movimentazione al ribasso 55.78, stamattina sembrava che voleva superare questo 55.78 invece qui abbiamo una situazione interessante eccolo qua, 50.61.8 potrebbe essere un ottimo oppure anche il 38.2 dove si trova adesso il mercato potrebbe essere un'ottima zona per poter rientrare sell a mercato quindi per poter ammetterci sell anche sulle indicazioni di questa bearish a shark bene, per stasera è tutto, grazie mille per la vostra attenzione ci aggiorniamo quindi domani mattina con la diretta live mattutina alle ore 8.30 buonasera da tutti